sabato 10 febbraio su uslo web radio un nuovo appuntamento con agenda avvocati buongiorno dunque a tutti gli amici e colleghi in ascolto da binogallo le ore 10 di questo sabato 10 febbraio il nuovo appuntamento con agenda avvocati buongiorno anche a ornella sala come sempre con noi in regia iniziamo subito con una notizia importante perché in tema di mediazione sappiamo quanto per la riforma cartabbia a seguito della riforma cartabbia sia sempre più centrale il ruolo della mediazione della negoziazione assistita come condizione di procedibilità in questo caso però è intervenuta la corte di cassazione a sezioni unite con un principio di diritto reso con l'ordinanza con la sentenza 3452 appunto di quest'anno si parla di domanda riconvenzionale e della eventualità che la procedura di mediazione debba essere esperita preventivamente o successivamente anche a seguito della proposta della domanda riconvenzionale la cassazione intervenuta appunto e con un principio di diritto ha stabilito che l'obbligo della mediazione è escluso per la domanda riconvenzionale è sufficiente quindi il tentativo di conciliazione già svolto per la domanda principale appunto se la mediazione è stata già effettuata per la domanda principale quindi non c'è bisogno di avviare un nuovo procedimento in caso di proposta di domanda riconvenzionale resta ovviamente ferma la competenza del mediatore di valutare le istanze e gli interessi delle parti e per il giudice la possibilità di tentare la conciliazione per l'intera durata del processo nell'escludere il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità per la domanda riconvenzionale la cassazione ha tenuto conto della razio dell'istituto la mediazione cioè è tesa ad evitare che le parti abbiano soddisfazione solo con una causa e quindi con costi e tempi elevati che non convengono a nessuno e che possono essere evitati come sappiamo per via stragiudiziale ed è questa la considerazione che ha indotto i giudici a ritenere che la domanda riconvenzionale cosiddetta non eccentrica e quindi legata all'oggetto del giudizio non sia da sottoporre una mediazione obbligatoria se già tentata senza successo dall'attore in questo caso la condizione di procedibilità è soddisfatta e la lite ormai pendente davanti al giudice non potrebbe essere evitata neppure nel caso di un successo della mediazione riferito alla domanda riconvenzionale. Una volta che la causa sia insorta così si esprime la cassazione la funzione dell'istituto viene meno non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la installazione del processo in quanto essa si collega alla causa e non alla domanda come tale in funzione deflattiva del processo quindi le sezioni insistono le sezioni unite insistono sulla funzione filtro della mediazione. La stessa conclusione viene raggiunta per quanto riguarda le domande riconvenzionali eccentriche rispetto alla lite e dunque quelle che allargano l'oggetto del giudizio perché prive di una connessione rispetto a quello già introdotto dall'attore. In questo caso ci sono più ragioni per escludere la condizione di procedibilità all'obiettivo di ridurre il numero dei processi si unisce l'esigenza della certezza del diritto che vieta il proliferare di contenziosi e quella di una ragionevole durata dei procedimenti. Diamo conto adesso di un paio di pronunce in tema di affidamento a seguito di separazione e quindi è importante questa sentenza, anzi una ordinanza del 7 febbraio di quest'anno la numero 3465 della Cassazione Civile che ha preso atto della riforma e anche la Suprema Corte che vizziare troppo i figli può diventare addirittura illegale, tanto che perde il collocamento del minore chi vive in simbiosi con lo stesso, togliendoli le castagne dal fuoco impedendoli così di crescere ed emanciparsi. La Cassazione Civile nello specifico ha respinto il ricorso di una donna che si era visto togliere il figlio collocato presso l'ex perché viveva troppo in simbiosi con lui. Il bambino aveva mostrato gravi segni di intolleranza verso il padre scaturenti dall'atteggiamento simbiotico con lo stesso da parte della madre, per questo dopo aver ascoltato il ragazzo il giudice aveva deciso di toglierlo dalla casa di lei e di collocarlo presso l'ex marito. La decisione è stata confermata dalla Cassazione e gli ermellini hanno spiegato che il criterio fondamentale a cui deve attenersi il giudice a mente proprio dell'articolo 337 ter comma 2 del codice civile nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole e costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della stessa, che impone di privilegiare la soluzione che appare più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo per la personalità del minore, il che richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con le quali ciascuno in passato aveva svolto il proprio ruolo e anche con particolare riguardo proprio alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. Inoltre, ancora un altro aspetto interessante, la comparazione tra le figure genitoriali assume in queste situazioni un rilievo non in sé o in funzione della valutazione della fondatezza delle contrapposte pretese sul collocamento del minore, ma acquista valore con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli, vale a dire nell'ottica allo scopo di individuare la soluzione che riesca ad assicurare al meglio il concreto interesse morale e materiale proprio del figlio minore. La Cassazione ha ritenuto che proprio questo è il percorso che è stato seguito dalla Corte d'Appello, che in funzione della individuazione del migliore interesse del minore si era spesa non solo nella individuazione di una pluralità di seri profili critici nella figura materna, ma anche nel porre in evidenza che la soluzione che prevedeva una collocazione presso il padre fosse preveribile in ragione della sua maggiore adeguatezza. E continuando nel filone che abbiamo introdotto vi diamo conto di un ulteriore intervento della Cassazione Civile, questa volta la sezione prima con l'ordinanza del 6 febbraio di quest'anno numero 3.372. La Cassazione dice no al collocamento paritario quando il bambino non vede volentieri uno dei due genitori e ciò anche se sono loro a chiederlo. Ha respinto quindi da Cassazione il ricorso di una mamma contro il provvedimento con il quale il bambino era andato a vivere prevalentemente con il padre. In questo caso per gli emmerlini la frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affidamento condiviso, sempre nella tutela e nell'interesse morale e materiale del secondo, ha una natura tendenziale, nel senso che il giudice di merito ben può individuare, sempre nell'interesse del minore e senza che si possa configurare una lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne è discosti al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. C'è qualcosa in più perché per la prima sezione civile la natura tendenziale del diritto alla genitorialità comporta che lo stesso debba essere assicurato tenendo necessariamente conto della realtà attuale e dell'interesse del minore a una frequentazione non paritaria se questa sia la situazione maggiormente confacente sempre ovviamente al suo benessere nell'immediato, ma avendo anche di mira il risultato da raggiungere in termini di stabilità di consuetudini di vita e di relazioni affettive con entrambi i genitori. Nel caso di specie questo diritto alla bigenitorialità doveva ritenersi pienamente rispettato dal provvedimento del giudice di merito che preso atto proprio del rifiuto del minore a incontrare un genitore intende evitare appunto un duraturo allontanamento da quella figura, dannoso evidentemente per l'equilibrata crescita del minore stesso, proponendosi di creare i presupposti per la ripresa e il mantenimento dei rapporti cosicché da salvaguardare le condizioni poi per arrivare nel futuro a una frequentazione paritaria. L'importante è dunque queste due pronunce della Cassazione per quanto abbiamo sopraesposto. Ha fatto molto discutere questo intervento della Corte Europea, ha fatto molto discutere sui social, sui social frequentati, in quei gruppi social frequentati da avvocati, questo intervento della Corte Europea su un caso verificatosi in Bulgaria. Se ne è parlato molto perché potrebbe avere anche una ricaduta, ma è da vedere, anche per quanto riguarda il nostro Paese. Si parla di minimi forensi perché la Corte di Giustizia Europea è intervenuta sostanzialmente dicendo stop anche ai minimi forensi, potendo il giudice essere libero di liquidare compensi più bassi rispetto a quelli minimi stabiliti in una qualche convenzione. La differenza sta proprio in questo piccolo passaggio, perché nella sentenza C.438.2022 pubblicata dalla seconda sezione della Corte di Giustizia Europea, il tema era rappresentato da un regolamento sancito da un'associazione di professionisti, quindi da un'organizzazione professionale di avvocati. In questo caso il giudice può disapplicare i minimi dei parametri forensi perché sarebbero contrari, anzi sono contrari, ai principi di libera concorrenza. Quando c'è la soglia più bassa del compenso e fissata da un regolamento adottato da una organizzazione professionale di avvocati, il fatto che il giudice non possa liquidare onorari per le somme inferiori costituisce una restruzione per oggetto vietata dai trattati della UE e dunque il magistrato deve rifiutare di applicarla nei confronti della parte condannata a pagare le spese, anche quando quest'ultima non ha sottoscritto alcun contratto di servizi legali o di compenso per l'avvocato, non rilevando neppure che di standard minimi riflettano i prezzi reali del mercato. La vicenda nasce in Bulgaria, mostra alcune analogie con la situazione italiana, il regolamento incriminato a Sofia è adottato in questo caso dal Consiglio Superiore dell'Ordine Forense, mentre come noi sappiamo i nostri parametri forensi sono stabiliti con un decreto ministeriale. In questo caso a Sofia invece il regolamento è stato direttamente adottato dal Consiglio Superiore dell'Ordine Forense. E allora secondo i giudici del UE non si possono invocare gli obiettivi minimi di tutela che possono essere perseguiti dalla normativa nazionale, ad esempio di ordine etico o deontologico, ciò perché la disposizione nel mirino della Corte non consente da un lato ad avvocato e cliente di pattuire un compenso professionale inferiore al minimo e dall'altro al giudice di scendere sotto la soglia stabilita dal regolamento quando liquida l'onorario. Il tutto mentre in Italia la recente giurisprudenza della Cassazione stabilisce che è impossibile, come sappiamo, andare sotto i minimi dei parametri forensi in assenza di un indiverso accordo fra le parti. In effetti il decreto ministeriale 37 2018 di modifica del 155 del 2014 ha stabilito che sostanzialmente con questo DM il legislatore ha compiuto una scelta consapevole per ridurre la discrezionalità dei magistrati e assicurare l'uniformità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione. È una grave distorsione invece per i giudici UE la decisione di un'associazione di imprese, come è ritenuto il Consiglio Superiore dell'Ordine Forense, che quantifichi gli importi minimi degli onorari per gli avvocati e quindi ciò sarebbe vietato dall'articolo 101, paragrafo 1 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Ha fatto molto discutere questa notizia, per ovvie motivi ve ne diamo conto e attendiamo, insomma, molto interessati anche a riconoscerne gli sviluppi. E rieccoci di nuovo in diretta per parlare sempre di PEC, di notifica mezzo PEC nei vari processi, nelle varie giurisdizioni. Per esempio, nell'ambito di processo penale, lo ha stabilito la Cassazione Penale con la sesta sezione, con la sentenza 5093 del 2024, non basta la notifica della citazione a giudizio alla casella PEC del difensore, che è troppo piena per ricevere altre mail, per condannare l'imputato in assenza. E' vero che la consegna dell'atto si perfeziona col deposito in cancelleria quando l'invio per mail certificata non va a buon fine per colpa del destinatario, ma non si può respingere la richiesta di revisione del giudicato senza verificare che l'imputato abbia avuto piena conoscenza dell'accusa e della pendenza del processo a suo carico. Ha accolto così la Cassazione il ricorso proposto dal difensore dell'imputato, condannato 8 mesi di carcere con pena sospesa per resistenza pubblico ufficiale e trova ingresso la censura della difesa secondo cui il cliente ha saputo della condanna soltanto quando gli è stata notificata la cartella di pagamento delle spese di giustizia. Sbaglia la Corte di Appello quando ritiene che l'imputato avrebbe avuto conoscenza del procedimento grazie alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio eseguite presso la casella PEC del difensore domicilatario sul rilievo che la casella legale dello stesso fosse piena. L'errore è duplice, dice la Cassazione. Da una parte non è possibile affermare che sia stata la saturazione dell'account a impedire la ricezione dell'atto. Manca l'attestazione del cancelliere secondo cui l'atto notificato sia stato restituito ammittente con l'indicazione casella piena, oltre a quella in calcio all'atto che l'ufficio ha trasmesso il testo originale e in caso di casella piena del difensore serve comunque il deposito dell'atto in cancelleria. D'altra parte anche se la notifica all'imputato risultasse perfezionata, l'istanza di rescissione giudicato non può essere per se stessa respinta. La conoscenza che l'imputato deve avere del processo deve essere effettiva. L'accusato dunque deve avere contezza dell'imputazione ascritta di data e luogo del giudizio e il processo risulta quindi celebrato in modo legittimo in assenza dell'imputato solo se lo stesso debitamente informato rinuncia a comparire o si si attragga deliberatamente alla conoscenza del processo. E ancora in tema di notifiche PEC e di prova della stessa, in questo caso in ambito tributario, la prova della notifica PEC non si può dare solo con la ricevuta di consegna. L'ho affermato la Porta di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa con la sentenza 225 depositata il 24 gennaio del 2024, con la quale un contribuyente si è visto annullare l'avviso di intimazione di pagamento impugnato. La Corte ha stabilito in prima battuta, ribadendo un principio di diritto ormai sposato anche dalla Cassazione a più riprese, la prova della notifica di un atto consegnato tramite PEC nel processo tributario si rende solo telematicamente e depositando i fari di accettazione e consegna nonché della ricevuta dati atto. In secondo luogo però, e questa è della deduzione logica più interessante della decisione esame, ha sancito che la ricevuta PDF della consegna relativa alla notificazione PEC non ha alcun valore probatorio. Questo assunto è infatti un elemento importante della motivazione emessa dalla Corte che appunta come non si comprenda se il messaggio di PEC contenga effettivamente l'atto prodromico e pertanto non vi sono elementi per ritenere avvenuta regolarmente la notifica della cartella. Questo passaggio della decisione va a tradursi in un'ottica giuridica precisa, senza ricevuta di accettazione unita a quella di consegna, non c'è alcuna idoneità approvatoria della cartella presupposta. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci web radio chiocciolaiuslow.it Ed eccoci qui di nuovo in diretta per l'ultima davvero notizia della giornata, parliamo di responsabilità sanitaria e responsabilità medica, quando può essere che l'attac sia stata effettuata tardivamente, c'è l'archiviazione penale, ma l'ASL può essere condannata comunque all'isarcimento del danno. In questo caso, a seguito della morte di un paziente, l'ASL è stata costretta a risarcire all'erede il danno da perdita di chance, nonostante i medici siano stati poi prosciolti in sede penale. Dalla perizia disposta dal PM e dalla CTU poi svolta in sede civile, è emerso che non essendo stata eseguita subito l'attac, i sanitari hanno sottratto al malato, al paziente, apprezzabili possibilità di sopravvivenza. Scatta quindi lo stop al risarcimento, in questo caso liquidato dal giudice nel merito, perché il giudice non motiva le possibilità di evitare la morte del paziente, quantificata nella misura del 40%, mentre il CTU si era fermato al 25%, in questo caso viene meno la giustificazione del principale parametro di riferimento e quindi la Cassazione civile nell'ordinanza 21-52 del 22 gennaio del 2024 ha bocciato poi il motivo di ricorso con cui l'ASL contestava la propria responsabilità. Era diventa definitiva sul punto la decisione della Corte d'Appello che senza rinnovare la consulenza tecnica ha rilevato la perdita di chance del paziente ritenendo che la CTU svolta in primo grado avesse fatto emergere la prova di una condotta imperita dei medici nonostante l'archiviazione disposta dal GIP nel procedimento per la morte del paziente. Quando in questo caso il malato arriva in ospedale è in corso un aneurisma e quindi un'attac con mezzo di contrasto andava eseguita subito e non programmata dopo qualche giorno, il che avrebbe consentito di rilevare la fissurazione soltanto di questo aneurisma e dunque di tentare di realizzare un intervento chirurgico urgente. Il giudice di Appello non si è spinto a dire che l'operazione avrebbe salvato la vita al paziente in misura più probabile che non, ma ha ritenuto che se i sanitari avessero compiuto per tempo quegli accertamenti, quindi l'attac, il paziente forse, anzi senza il forse, avrebbe avuto maggiori probabilità di sopravvivenza che così gli sono state negate. E' mutato così anche il contenuto della prova e trova ingresso nel ricorso in Cassazione proposto il motivo proposto contro la quantificazione di risarcimento, però quindi il ricorso presentato dall'ASD. La Corsa d'Appello non ha spiegato perché ritiene di elevare la misura delle chance perdute, in questo caso la CTU civile e i periti nominati dal PM nel penare erano giunti ad una conclusione di probabilità inferiore al 25% rispetto al 40% sancito dalla Corte d'Appello. C'è il rinvio e adesso la parola passa al giudice del rinvio. Era l'ultima notizia della giornata, buon weekend allora nel congedarci da parte mia, grazie a Ornella Sala che è stata con noi in regia e appuntamento a sabato prossimo. Libertà e diritto per diffondere giustizia. E' con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di YouSlow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. YouSlow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia. YouSlow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.